Ciao raga bentornati sul mio canale youtube, a gran richiesta è arrivata finalmente la tier list delle icone moments come al solito gigantesca premessa per favore se vedete il vostro campioncino non scambiabile che avete trovato e che vi fa impazzire in una categoria che per me insomma non lo reputa un fuoriclasse non vi triggerate cerchiamo di parlarne nei commenti, io cercherò di argomentare perché un determinato giocatore secondo me vale o meno quindi cerchiamo di mantenere la calma e la composure visto che solitamente la percentuale di trigger è abbastanza alta sotto questo tipo di video io ve l'ho portato perché me l'avete chiesto, ce ne sarà insomma da parlare soprattutto per alcune icone quindi mettetevi comodi e partiamo subitissimo con la prima categoria ovvero la categoria god ovvero quella che diciamo non ha bisogno di grossissime presentazioni di fatti abbiamo ovviamente Ronaldo il fenomeno moments, Pele moments, Eusebio moments, Cruif moments, Ronaldinho moments, Cantona moments su questo io ci apro e ci chiudo una parentesi perché io non lo reputo un god ok? l'avrei piazzato più tra gli otmi però per il mio gusto personale è innegabile comunque che sia veramente un bel giocatore poi ci ho messo ovviamente Garrincia moments, Viera moments, Gullit moments, Zidane moments, Carlos Alberto moments che può farvi benissimo il terzino così come il difensore centrale provato sull'account che ci ha dato la nazionale in tempi non sospetti veramente fenomenale Rio Ferdinand moments perché è veramente un bel giocatore full automatico, preciso negli interventi, super aggressivo, mi è piaciuto veramente tanto e poi come ovviamente non andare a inserire Maldini moments, quello che per me è il miglior giocatore difensore di FIFA 21 quindi diciamo che per quanto riguarda la categoria God, insomma abbiamo poco da dirci magari potremmo dire come mai Eusebio visto che non è propriamente il suo gioco comunque Eusebio moments non poteva stare in una categoria più bassa voglio dire quindi per quanto riguarda i God, bene o male, sono sempre gli stessi passiamo a quella che è la categoria invece degli ottimi giocatori quindi giocatori che non sono top ma non sono neanche quelli della categoria degli utilizzabili ovvero quelli che proprio perché ce li hai vanno usati no, questi sono giocatori che se trovati per me vale la pena di inserire all'interno delle squadre ovviamente mio figlio Dalglish che è un giocatore incredibile con 5 di piede debole è più in meta rispetto ovviamente al gioco dell'anno scorso quest'anno non è propriamente il suo gioco però è comunque un ottimo finalizzatore all'interno dell'area di rigore col piede debole 5 vi dà la possibilità di essere imprevedibili fa anche dei discreti movimenti col tunnel direzionale è molto agile palla al piede quindi un ottimo ottimo attaccante soprattutto con la sua SBC che costa 2 lire per me può aver senso sbloccarlo Eton Moments è un altro giocatore sensazionale è un 4-4 però rispetto a tutti i 4-4 ha una finalizzazione pazzesca è molto rapido e c'ha dei bei movimenti con le varie skill meta di quest'anno quindi Eton Moments promosso così come anche questo Kaka è un ottimo giocatore non da attaccante ovviamente ma da esterno da trequartista perché altrimenti rischiate di ritrovarvelo un pochino tronco e quindi darvi fastidio se lo giocate nei ruoli più prettamente offensivi davanti la porta Stosuker Moments anche lui non è malvagissimo è un giocatore assolutamente utilizzabile mi sono sentito di inserirlo tra gli ottimi perché secondo me pur non avendo la quinta skill è un giocatore che la sua la dice tranquillamente perché non ho messo best nei god l'ho messo negli ottimi perché non ha il 5 skill 5 skill che per me sapete quest'anno è fondamentale soprattutto per gli esterni per quanto riguarda la possibilità di poter fare la suola più lo scoop turno quindi best rispetto a Garrincio è negli ottimi e non nei god vi ho messo Maradona negli ottimi perché se no apriti cielo nonostante abbia il treppiede debole insomma Maradona comunque soprattutto diciamo da COC lo si può provare a utilizzare consci del fatto che sia un po' monopiede lo si può anche provare da esterno quindi potreste anche tentare di giocarlo largo qualcuno l'ha testato e ha detto che non si è trovato malissimo perché Mataus negli ottimi e non nei god perché Mataus è un po' un furetto del centrocampo è un piccolino quindi cede qualche centimetro rispetto a quelli che per me sono i god ossia i vari Viera, Gullit eccetera che erano nella precedente categoria un altro bel giocatore del centrocampo è sia Petit ma anche Essien Petit un po' più fisico magari cede qualcosina in velocità rispetto a Essien però anche lui molto molto valido l'angelo biondo io lo chiamo l'ho utilizzato l'anno scorso e mi è piaciuto tanto Essien invece c'è anche la sua SBC quindi soprattutto con tutti i non scambiabili che girano ultimamente può essere sbloccato a dei prezzi abbastanza onesti così come può essere sbloccato a prezzi onesti sto Zambrotta con la sua SBC che anche qua si può essere si può andare a completare con tutta una serie di pick quindi Zambrotta che da Tirzino può essere spostato anche tranquillamente di C ma appunto utilizzato anche nel suo ruolo base veramente un gran giocatore così come un bel difensore centrale è anche questo Desai che ha una buona velocità una buona fisicità una buona reattività pulito negli interventi ed è anche molto grosso in game quindi tanta roba il buon Marcel così come anche Campbell è un ottimo difensore così come lo è anche Cannavaro Cannavaro tuttavia io non lo preferisco perché a me i difensori centrali piccolini non mi fanno impazzire quindi rispetto a tutti questi difensori che vi ho elencato è quello che preferisco meno Roberto Carlos Prime Moments che tra l'altro ho trovato sul mio account dalla SBC devo dirvi veramente una sorpresa si speedboosta benissimo tira delle punizioni che non avete idea fa delle ottime diagonali difensive se ve lo fate inserire è veramente molto molto valido peccato il 3 di skill se avesse avuto 4 sarebbe stato veramente tanta tanta roba ancora in più ma sicuramente un ottimo terzino sicuramente 3 terzini icon uno dei migliori poi abbiamo la categoria Portieri dei Pro ovvero una categoria a parte dove abbiamo i portieri con Wanderstar Moments che secondo me è il miglior portiere icon e probabilmente anche il miglior portiere del gioco in seconda posizione ci metto Yashin il mio amico Coppolaro poi ci metto Schmeichel e poi Cech questa è la classifica di quelli che sono i portieri secondo me nelle loro versioni Moments solo i portieri sono messi in classifica gli altri giocatori invece sono raggruppati più o meno per ruolo quindi non pensate ad esempio che Etosi ha più forte necessariamente di Suker o Kakashi ha più scarso i Dalvich sono semplicemente raggruppati per ruolo quindi anche qua non triggeratevi è semplicemente una questione di praticità andiamo avanti e passiamo alla categoria degli utilizzabili quella che credo sarà la categoria dei più chiacchierati insieme all'ultima perché all'interno di questa categoria io ci ho messo dei giocatori che sicuramente voi ritorrete a più scarsi il primo giocatore è Torres Moments che è un 4-4 un po' penalizzato al fatto che insomma il suo body type non lo renda proprio il giocatore più agile del mondo però è comunque un giocatore che secondo me può valere la pena utilizzare stesso discorso per Crespo e per Raul si parla di due giocatori 4-4 discretamente agili che finalizzano molto bene e che per me possono dire la loro peccato che non abbiano la quinta skill sapete che è fondamentale stesso discorso vanno a braccetto Puskas e Stoichkov ve li ho un po' raggruppati che sono dei buoni giocatori ma hanno il 3 di piede debole quindi sono un po' monopiede e questa cosa li penalizza veramente tanto veramente tanto c'è chi li reputa dei top pazzeschi per me non lo sono per me sono utilizzabili e con tutti i tots che escono probabilmente potrebbero essere anche soppiantati qualora appunto ce ne sia qualcuno con 4 di piede debole 5 di skill eccetera eccetera un altro giocatore che magari per voi poteva essere ottimo è Stone Edved raga c'ha un body type ambivo Stone Edved a me non fa impazzire sulla fascia sembra che non prenda velocità non è così agile quindi io lo piazzo negli utilizzabili perché sicuramente è un buon giocatore ma non mi solletica l'appetito stesso discorso per Butraghenio pace all'anima sua discorso diverso da Dalvis che ha 5 di debole e 4 di skill lui ha 5 di debole e 3 di skill quindi ancora più limitante rispetto al suo amichetto scozzese il buon Emilio che costituiva la mia coppia dell'attacco l'anno scorso proprio con Dalvis quest'anno sono andati in pensione entrambi poverini Del Piero Moments un ottimo trequartista ma non di più perché non vi prende grossa velocità stessa cosa Bear Camp Moments ottimo trequartista non di più discorso analogo per Zola Moments che però può essere anche utilizzato da furetto sulla fascia qualora vi ci trovate bene il buono Kocha invece è veramente un bel giocatore perché ha 5 di skill e oltre a fare l'esterno e il CioC vi può fare anche la seconda punta perché vi do una imprevedibilità lì davanti io l'ho testato in un draft veramente un bel giocatore sorprendente usabilissimo al 100% abbiamo poi Overmars che è un giocatore abbastanza esotico Marco sopra Marte perché ha 3 di skill quindi veramente stra 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 deleterio si può utilizzare perché comunque insomma il suo sulla fascia lo può fare però veramente limitante stesso discorso per Figo che comunque rispetto al suo compare almeno un 4 di skill lo presenta quindi Figo molto diciamo più utilizzabile rispetto rispetto al suo compare olandese però anche lui non è che proprio mi fa esaltare visto che non ha il body type o per fare l'esterno abbiamo poi Agi che il Maradona dei Carpazzi è comunque un 4-4 quindi per me da esterno anche da CioC si può provare non è così scandaloso come appare abbiamo poi Maghelele ottimo mediano sia in un 4-4-2 che in un 4-2-3-1 è aggressivo recupera bene il pallone è un po' un cante diciamo upgradato più o meno sono simili Rijkaard Moments e Guardiola Moments e ci aggiungo anche Ballack sono giocatori che spesso e volentieri vengono sottovalutati perché sebbene statisticamente non siano questi fuori classe e sebbene tutti si portano un po' di problemi appresso soprattutto il Rijkaard e Ballack il problema di essere un po' lenti e compassati in game possono essere tranquillamente utilizzati perché hanno comunque delle ottime stats di passaggio delle ottime stats di difensive ottime stats di fisico sono anche abbastanza aggressivi quindi loro in mezzo al campo potrebbe valere la pena di provarli Rijkaard in particolare ho parecchi feedback di gente che l'ha trovato l'ha testato e non si è trovato male abbiamo poi Cole, Lam, Zanetti tutti quanti insomma terzini che possono essere tranquillamente utilizzati Lam, Cole, Zanetti possono essere anche spostati DC qualora insomma il caso lo richiede Zanetti in particolare secondo me può essere spostato anche CDC ed è proprio il suo ruolo ideale visto che non spicca proprio per la sua velocità e poi abbiamo Blank Moments e Vidic Moments due difensori che sono molto grossi molto fisici quindi non troppo reattivi ai micromovimenti avversari e non sono neanche così tanti veloci in quello che è un meta basato tanto sui terzini spostati quindi occhio a Blank e Vidic che sono si validi però rischiano di far fatica contro gli attaccanti veloci dei vostri avversari concludiamo con la categoria e arrivederci ovvero quelli che per me devono finire dentro all'SBC il primo è l'Angelo Biondo raga non mi dite niente c'è qualcuno che lo reputa utilizzabile ma secondo me ripeto per il momento storico nel quale ci troviamo ovvero un momento storico full tots full cose full robe tutte ste carte qua hanno veramente troppi competitor stesso discorso per Inzaghi Hierro e Nesta che sono troppo lenti Gattuso che è troppo lento e piccolino Harry che è un tronco Giggs che non può circolare col piede debole le skill le skill che c'ha Gerard che non è altro che è un centrocampista comunissimo come tanti altri un Soucek Deko che non ve lo sto manco a narrare Drogba che è un tronco Baggio che è uno dei giocatori più forti di tutti i tempi che l'hanno devastato su FIFA Sedorf che paradossalmente è quasi più forte il mid Baresi che ha 74 di velocità ed è un nano Socrates che come al solito è il classico tronco del centrocampo che se Socrates io ancora oggi non ho capito se è un C.O.C. una mezzala un mediano io vi giuro sto Socrates non so come collocarlo ogni anno boh punto di domanda Barnes non ve lo dico neanche Lampard Weinsteiger Scholes Rush Pirlo Richelman Nakata Moore Litt Mannen Lineker Xavi Wright che però tenne una bella collana Van Nist Rovieri Verón l'ho messo negli arrivederci però in realtà mi è scappata la mano ora che ci penso perché questo qua può essere testato occhio perché non è malvagissimo l'anno scorso veniva usato anche in competitive da qualcuno esotico quindi Verón in realtà mettetelo negli usabili poi abbiamo Shearer Van Bastens Hugo Sanchez Lau Drup Larsson Keen Koeman Kluivert Rui Costa Rivaldo con due di piede debole Close Puyol Tresegui Pires Shevchenko Began Moen tutti giocatori che statisticamente sembrano anche vali raga ma chi per un motivo chi per un altro tra piede debole skill troppo piccolo troppo tronco veramente si fa una fatica gigantesca a poter ritrovare una collocazione in campo ripeto nel momento storico nel quale ci troviamo io già lo so che adesso arriverà il fan di Uri Costa il fan di Puyol il fan di Hugo Sanchez quello di Hernandez io non sto dicendo che fanno cagare sto dicendo che secondo il mio pensiero gusto personale in questo momento sono giocatori che non meritano di vedere il campo perché basta un banalissimo Toz per dirvi no Hernandez che ha 94 velocità ma vi basta un qualsiasi anche Carrasco voglio dire che lo mettete sull'esterno a correre oppure che ne so un altro giocatore che potrebbe essere chiacchierato no Rui Costa ma vi basta un Fekir no che lo piazzate costa 200k quindi voglio dire sono giocatori al limite che onestamente per me devono solamente svolacchiare in SBC quindi raga per quanto riguarda questa tier list delle icone prime moments è tutto abbiamo concluso quindi abbiamo fatto le icone prime baby mid prime moments fatemi sapere che ne pensate mi raccomando dialoghiamo non baccanite vi ricordo di controllare la descrizione dove trovate tutte le info per le live giornali sulla piattaforma viola è nulla ragazzi inserito un abbraccione a Liberoschi ciao